Offriamo il formaggio e la bottiglia in onore dei nostri emigranti, siccome questa ripresa di questa vendita, di questa proprio, andrà tra i nostri emigranti in America, approfittiamo per fargli il nostro saluto e il nostro bene che gli vogliamo. Evviva Santa Croce e evviva gli emigranti! Per gli emigranti Erminio offre 20 euro e poca ghiaccia, e per Erminio 20 e 1, 25 e 1, 26 e 1, 27 e 1 a Antonio, Vincenzo 30 euro a Vincenzo, 33, 35 a Vincenzo e 1, 36 a Filomene 1, 36 e 2, Kimmok, 38 ad Alessandro e 1, 41 a Vincenzo e 1, 42 a Filomene e 1, 41, 42 e 2, 43, BJ, 43, 44, 44 e 1, 44 e 2, 44 e 3! Grazie!